ho scoperto il vostro figlioccio lepore che in stanza con me quindi bravissimo ragazzo giocatore straordinario mi vengono in mente ora che mi ha detto del feeling quando sono arrivato che eravamo in stanza e guardavamo insieme le fotografie di lui che piangeva sotto la curva del si affoggia e quindi vi ho fatto una promessa che poi vedremo se si manterrà no